Viva gli alberi! Allora, oggi disegno molto facile, con solo una matita nera. Partiamo da una struttura generale, molto grossolana, con gruppetti di fogli. Non preoccupatevi troppo, cioè, beh, lì, è un albero. Una volta fatta quella, le andiamo a riempire. Piccoli movimenti circolari, la base un po' più scuretta, perché la luce si presuppone venga dal cielo. Qualche segnetto che passa di lì per dare l'impressione di fogli. E man mano ci infiliamo anche i rami. Nulla di strabiliante. È un albero. Di rami ne mettiamo tanti, che altrimenti poi si sentono soli. Ho anche un po' d'erba lì per terra. Ci vogliamo privare degli uccellini? Io no. E quindi ne infiliamo tre o quattro che svolazza. Minimo sforzo, buona rete. Mezz'oretta sereni.